La Quaresima segna il tempo per prepararci con cuore nuovo al mistero della morte e risurrezione di Gesù. Durante la celebrazione del mercoledì delle ceneri, il sacerdote mette un pizzico di cenere sulla testa dei fedeli per ricordarci che siamo delle creature, che siamo state create dal Signore, è un modo per ricordarci che la nostra vita è un dono, che è preziosa e dobbiamo averne cura, seguendo la via che ci ha indicato Gesù. La cenere è anche un segno per indicare che il nostro cuore è pentito e decide di seguire con un nuovo slancio il cammino verso il Signore. Un esempio lo troviamo nella Bibbia, nel Libro di Giona, in cui il re di Ninive, quando riceve la notizia della conversione del suo popolo, in seguito alla predicazione del profeta Giona, si siede sulla cenere. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si torse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Anche nel Libro di Giuditta, gli abitanti di Gerusalemme pregano il Signore perché li liberi e si cospargano il capo proprio con la cenere. Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al Tempio e cospassero il capo di cenere e vestiti di sacco alzarono le mani davanti al Signore. La cenere benedetta della cerimonia delle ceneri si ottiene bruciando i rami di olivo distribuiti in chiesa la Domenica delle Palme dell'anno precedente, che vengono conservati proprio con questo scopo. Questa cenere viene usata dal sacerdote che traccia una croce sul capo o sulla fronte dei fedeli. Il rito riturgico ambrosiano dell'Arcidiocesi di Milano non celebra il mercoledì delle ceneri. Per i milanesi la quaresima comincia direttamente la Domenica successiva. Il rito delle ceneri viene celebrato la Domenica che segue il mercoledì delle ceneri e segna anche la fine del carnevale.